Dovete fare subito una guerra dolorosa e gioiosa, non contro gli uomini ma contro voi stesse, che vi cavate gli occhi con le dita per non vedere le ingiustizie che vi fanno. Così scriveva in Donne mie un tempo da Ciamaraini. Non meno accorata è stata la sua lezio magistralis di ieri al Polo Zanotto. Al centro l'universo femminile, le dicotomie che ancora lo attraversano e le sfide di oggi, scheggiate anche da femminismi spesso stereotipati e banalizzati dalla retorica. Uno, l'appello della scrittrice, diretto prima di tutto proprio alle donne, che dovrebbero evitare i personalismi, cercando invece di essere più collettive e solidali le une con le altre. La società, ripete instancabile Maraini, sta facendo allarmanti passi indietro. Fondamentale rimane salvaguardare i diritti acquisiti perché non sono affatto scontati. Ruolo di primo piano spetta ancora alla scuola. La scrittrice fa esempi, parla dei tantissimi progetti di educazione sessuale mai capiti e rimasti in lettera morta. Se è proprio così difficile parlare di sesso tra i banchi, Dacia suggerisce di andare di sinonimi o di parole affini e di provare ad educare ai sentimenti. È di questo che in fondo si tratta, dice, di educare ad un amore che non è possesso. Non si sofferma solo sul fenomeno dei femminicidi. Maraini non risparmia. Critiche anche al neoministro alla famiglia Lorenzo Fontana e alle sue posizioni circa le famiglie arcobaleno e gay. Non si può far precedere l'ideologia alla realtà, ma è obbligatorio confrontarsi con un mondo che cambia, sottolinea l'autrice che con la sua letteratura ha raccontato le donne, scrivendo le fatiche, le zittite epiche e le conquiste. Sottolinea l'autrice